buongiorno a tutti ragazzi bentornati sul canale siamo ancora qui nel nostro magico regno e siamo pronti e carichi per un nuovissimo episodio allora ragazzi io comincerei subito con la riscossione dei nostri carrozzoni ottimo ottimo tre gemme e un cappello di buds che tra l'altro ce lo porta penso quasi alla possibilità di potenziarlo ok dopodiché io a questo punto manderei subito fuori in evanscoperta i nostri carrozzoni perché ce li abbiamo già pronti allora nello scorso episodio nel frattempo non so se vi ricordate siamo andati un poco avanti con le storie e abbiamo inoltre quasi completato la possibilità insomma di accogliere un nuovo personaggio di cenerentola perché secondo me manca poco per insomma sbloccare o la fata madrina oppure una delle due sorelle quindi a breve insomma procederemo anche con quella storia nel frattempo qui abbiamo un baulozzo due cimele disney due cristalli e un fiocco di paperina perfetto vediamo il secondo baulozzo che di solito era in questa zona però a quanto pare non c'è più qui eccolo va bene come al solito siepe e siepe tra l'altro coppia di topolino e pluto e vediamo il terzo se ci darà qualche gioia in più insomma oggi abbastanza scarsi un cimele di testori e due wifi e 400 magie ovviamente no oggi devo dire abbastanza scarsi no no sono non sono soddisfatto oggi insomma sono leggermente amareggiato avrei preferito qualcosa di più però insomma un cappellozzo di cenerentola e missione completata di paperina non c'è niente di meglio del brevido che senti quando ti viene una grande idea e questa idea sarà stratosferica la stacca nuvista 1 restate sintonizzati per maggiori dettagli amici ottimo ottimo tra l'altro nel frattempo una zucca niente tra l'altro dicevo che prossimamente dovremmo sbloccare anche mini in questo arco narrativo quindi mini pietro insomma questi personaggi qui perché è da un po di tempo che dei disney originali non sblocchiamo niente un cappellozzo del principe guanti di topolino nel frattempo e cappello di pippo qui cappello del maiale vediamo un po per adesso niente anche qui niente cappello di lando che ci permette di potenziarlo quindi io lo farei immediatamente porta a livello 2 va e 6 secondi completato ottimo lando carriessi è ora a livello 2 ci sto una gemma perfetto grandissimo lando tra l'altro adesso dovrò vedere pubblicità e poi ci mancherà solo una gemma e potremo comprare un altro baulozzo quindi adesso aspettiamo che finisca insomma tra 7 ore l'evento dell'impero dopodichè vediamo cosa ci esce nel caso perché no compriamo un altro baulozzo manda nando ad auto incoraggiarsi 4 ore lo facciamo immediatamente ok stavamo riscuotendo come vedete una bandiera pirata e come al solito bel cappellozzo di woody palla pizzer uh attenzione disegno di sally cioè in realtà è il disegno di bo per sally però vabbè cuffietta di bo pip fiocchetto per papelina missione completata uff è stato molto più faticoso di quello che ricordavo forse potrei stare seduto a fare da spettatore per questa volta sentimento comune 2 dopo tutto c'è il rischio che mi facciano vincere solo perché sono il loro principe può darsi questo rischio c'è un mantello di rando nel frattempo qualche cristallozzo qui cosa ci dà assolutamente niente ovviamente perché il maiale è un infame assurdo braccio di trepio mantello di rando qui un po' di magia un po' di monete vento e poi un cappello del mandaloriano ok come vi ricorderete penso sicuramente nell'ultimo episodio abbiamo messo a potenziare bo pip e adesso siamo ovviamente pronti ad accoglierla bo pip è ora a livello 6 due gemme nuova esperienza non c'è nulla che una canzone non possa risolvere esatto esatto bo pip come al solito sempre sul pezzo vediamo che cosa ci ha sbloccato nel caso va bene per tutti i personaggi nuovi c'è da trovarci della roba costruisci l'avventuriero stellare ok se costruiamo l'avventuriero stellare ci dà roba per l'andocalristian e l'avventuriero stellare costa 7500 si può fare si può fare ragazzi non adesso perché non ho abbastanza magia e me la giocherai tutta perché 7000 almeno dovrei buttarci 30.000 di magia quindi insomma per adesso attenderei nel frattempo abbiamo il grillo parlante pronto e benvenuto grillo parlante a livello 3 una gemma 12 esperienza per bacco dove sei grilletto dove sei vediamo se c'è sbloccato una missione oltre due ore ovviamente no ovviamente no un'ora due ore e dice stai lontano dai guai a livello 4 quindi non lo so non mi fiderei molto ecco non mi fiderei molto tra l'altro non possiamo assolutamente portarlo su con gli daki ecco magari con daki si però niente per adesso non possiamo assolutamente portarlo su a livello 4 abbiamo una marea di cappelli ma niente ombrelli va bene così va bene così ragazzi noi ci accontentiamo qui guardate ogni volta che è starto le puntate sono fuochi d'artificio senza pietà comunque abbiamo raggiunto le 60 gemme prima del previsto io contavo di farlo a fine puntata in realtà le abbiamo raggiunte adesso allora direi di vedere le missioni e poi chiudiamo paperina ma è vero ospiterai davvero una gara di mangiatori di torte al ristorante potrei vincere sai certo che ospiterò una gara di mangiatori di torte non c'è modo migliore per pubblicizzare la torta migliore del regno che dare un premio a chi ne mangia di più basta che entri dentro per avere la possibilità di gareggiare vabbè questo mi sembra scontato non puoi gareggiare da casa tua quindi devi per forza entrarci manda paperina a parlare della gara al suo ristorante vai vai paperina parlaci di questa garazza che ti riguarda ah nel frattempo no era l'ultimo era l'ultimo pensavo ci fossero più droidi ancora in realtà quello era l'ultimo vediamo il principazzo il torneo è stato un successo ma ci deve essere qualche altro modo per mostrare alla gente che mi sta a cuore perché non fare una capatina al mercato del regno potrei dare un'occhiata al prezzo delle mene parlare con qualche venditore sono sicuro che lo apprezzerebbero beh sì in realtà sì perché questo la gente fa piacere comunque vedere che ci tiene che ti importa ma dal principe per esplorare la piazza del villaggio sei ore certo principazzo baci a esplorare la piazzetta che dovrebbe essere questa qua e sì perché in teoria cioè fa piacere fa piacere sempre siamo andati un poco avanti con elisabeth come vedete siamo arrivati a quattro cappelli e oggi siamo andati avanti anche con sally che è arrivato a due disegni come vedete sempre il cappello la parte più rognosa di ogni personaggio perché insomma c'ha meno personaggi che che droppano l'accessorio e inoltre e anche di una rarità sempre maggiore quindi facciamo sempre un po più fatica comunque non so se avete notato abbiamo 60.000 magie e 60 gemme precisissimi e ok allora vediamo un po personaggi ci trovi mantello magia per quanto riguarda topolino lo manderei a farci a farci due ore per bo pippo sì dai facciamo così pippo anche tu due ore 12 ore voody lo mandiamo a fare un po di roba lunghetta mandiamo bo pippo due ore perché non comune jesse sei ore buzz lo mandiamo due ore visto che ci sta dando belle soddisfazioni con il cappello di elisabeth il prosciotto ci riproviamo per quanto riguarda invece sergenti a livello 5 ma ci mancano le palle pixar e quindi attendiamo e nel frattempo ci trovi palle pixar cenerentola come vedete adesso finalmente ci sarà utile tre lì sei ore per mike wazowski will elisabeth anche se non c'è ancora dato un cappello fino ad ora mike ci trovi il disegno e poi ovviamente come al solito è stato soltanto magia per questi bei personaggiozzi il grillo potenziato ci ha dato una gemma sì però è ancora abbastanza inutile quindi ci fa due ore allora ragazzi direi che per questo episodio possa essere tutto stiamo andando abbastanza avanti io vi ringrazio come al solito per tutto il supporto che mi state dando ci rivediamo al prossimo episodio auguro a tutti una buona serata e ciao ragazzi Grazie